Delle volte la realtà sembra così cupe e buia che ci si dimentica quale sia la strada giusta per ritrovare la luce. Il Natale suggerisce che bisogna camminare insieme nella luce del Signore, sulle strade dell'ascolto, del rispetto e della condivisione. E' questo il messaggio lanciato dalla comunità parrocchiale del Santissimo Sacramento di Bitonto, nella quinta edizione del Presepe Vivente. Tre Angeli hanno consegnato all'ingresso della cripta tre lanterne ai visitatori come guida in un interessante e interattivo percorso dall'importante valore sociale, tra scene di vita quotidiana come quelle di una realtà casalinga, lavorativa e commerciale e della natività. Due sono stati gli appuntamenti quest'anno, il 30 dicembre e il 5 gennaio. Il Presepe Vivente è una tradizione alla quinta edizione quest'anno, quindi possiamo dire che è una tradizione della nostra comunità parrocchiale. Ci spinge il desiderio di offrire i nostri tanti talenti, perché il Presepe Vivente è un'esperienza comunitaria, non è un'esperienza fatta da poche persone, è da tantissime persone che a tanti titoli si dedicano, dedicano del tempo, settimane, anche per pensare un po' l'idea che spinge a vivere il Presepe. Vogliamo offrire i nostri ambienti parrocchiali, vogliamo offrire quella che è la nostra vita comunitaria per qualcosa di bello. Il messaggio che abbiamo voluto lanciare è proprio questo, il titolo che quest'anno è stato scelto è Una luce nella notte. Ci sono tante notti che in un certo senso talvolta prendono il posto del giorno, della luce. Invece ci rendiamo conto che ci sono tante luci che talvolta però rimangono nascoste, per cui il messaggio che vogliamo lanciare è proprio questo, che anche qui a Bitonto, nella nostra terra, nella nostra quotidianità, c'è tanta luce e da credenti affermiamo che questa luce è una luce che arriva dal cielo. L'augurio che vogliamo proprio fare a tutta la comunità cittadina è proprio quello di valorizzare le tante luci che ci sono. Questa sera purtroppo è l'ultima sera che viviamo il Presepe, quindi non posso invitare ad altre serate, però ecco magari ci sarà modo per anche poter divulgare quello che è un video finale che abbiamo realizzato e che vuole parlare appunto delle tante luci presenti nella nostra città. Ecco l'augurio è proprio questo, di scoprirle e di diventare tutti quanti nel proprio piccolo capaci di partecipare a questa luce grande. Auguri allora. Grazie.